E allora vedete che la globalizzazione ha tradito le sue promesse perché? Perché la politica non ha dato alla globalizzazione quelle regole e quella guida di cui la globalizzazione aveva bisogno. Regole e guida. Ecco, allora noi, sono sicura che noi in questa sala abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo all'esito delle elezioni francesi. Sì, siamo molto contenti da convinti europeisti che questa sia stata la scelta più importante per il futuro dell'Europa. Però noi non dobbiamo cadere in errore a pensare che il problema del populismo si sia risolto con l'esito di queste elezioni. Perché io penso che il populismo nazionalista si può battere, sì, la Francia lo dimostra, si può battere, ma sarà veramente battuto nel momento in cui saranno rimosse le cause che sono alla base del populismo. E la disuguaglianza è una di quelle cause. E allora lo è per l'Europa ma lo è anche per l'Italia. Grazie.